Luca Trombini, oggi era l'esordio in diretta dell'emittente Amaranto Channel e quindi quando c'è stato il rigore all'inizio ho detto non è che potremmo proprio cominciare così, però meno male ci hai pensato tu I rigori sono episodi all'interno della partita, sono momenti a sé quando c'è un rigore è come se si fermasse il tempo quindi sono contento di averlo parato e poi bravissimo chi sulla rispinta è riuscito poi a buttarla fuori perché ora si vedono tanti gol su rispinta del portiere, sul palo ci ha fatto Golemi a Pineto quindi noi siamo stati attentissimi e bravissimi, ci tengo a sottolineare questo All'interno di una partita giocata bene, combattuta, lottata peccato per la vittoria sfumata nel finale però abbiamo detto anche con gli altri protagonisti, anche con i due allenatori alla fine il pareggio onestamente ci sta, no? Beh, è stata una partita combattuta, loro sono una grossa squadra una squadra che secondo me ha raccolto meno al livello di classifica per i valori che hanno e sappiamo che ci mettiamo in difficoltà noi con pazienza abbiamo cercato a nostra volta di metterle in difficoltà siamo riusciti poi a sbloccarla e sinceramente un po' per il risultato c'è amarezza ma ci portiamo a casa la grande prestazione E' quello che avrò modo poi di approfondire in questi giorni nei nostri spazi di Maranto Challenge però una cosa voglio dirtela adesso tu hai cominciato questo campionato un po' diciamo un underdog si direbbe oggi no, va di moda e ti sei ritagliato un ruolo da protagonista oggi sei sicuramente uno dei portieri più forti della categoria e del girone che soddisfazione ti dà questo? Ma io ci tengo sempre a sottolineare la fiducia che mi ha dato il ministro la società, lo staff io cerco di ripagargliela col lavoro poi sicuramente i complimenti vanno anche al mister, al gruppo dei portieri a Dani, a Jacopo sai quando ci vuole sempre equilibrio in tutto quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male e io penso che quando si lavora seriamente alla fine poi raccogli sempre quello che semini quindi secondo me il merito è di tutti E tra l'altro anche dello spirito perché sottolineo che quando Settemrini stava per entrare in campo Daniele Borra lo ha abbracciato, lo ha incoraggiato quindi è importante anche questo lo spirito che tra chi gioca e chi non gioca comunque siete squadra Ma Dani e Jacopo mi ci trovo bene insieme poi se avessi un gruppo di lavoro con cui non ti trovi bene è difficile lavorarci invece dal primo all'ultimo da chi sta in porta, chi sta davanti diamo sempre il massimo allenamento penso che questo si vede in campo quindi ecco, tutte le prestazioni che arrivano arrivano dall'unità della squadra Bene Luca, grazie, complimenti tutt'altro, questa è così come hai fatto a Carrara lo dicevo prima, ti sei presentato ancora Facciatevi farlo subito così poi facciamo tranquillo Bene, grazie, ancora complimenti a Luca Trombini Grazie a tutti